L'argentino German Cochis ha regalato all'Akregas tre punti per Natale. Gli agrigentini hanno ottenuto infatti un importante successo sul campo della Vibonese, diretta concorrente alla lotta a retrocessione, e si allontanano temporaneamente dalla zona rossa della classifica. Da Vibo Valencia però il tecnico di Napoli non porta a casa solo una vittoria, ma una prestazione convincente che fa ben sperare in ottica futura. Il risultato finale infatti sta addirittura stretto ai biancoazzurri, che avrebbero potuto segnare più gol con lo stesso Cochis e con Gomez. Tra Lucarelli e Sottil esulta quest'ultimo. Il derby tra Siracusa e Messina lo porta a casa la formazione retusea con un convincente 2-0, man of the match Emanuele Catania, autore di entrambe le reti siracusane. Festeggiate dunque come meglio non poteva le 100 marcature in carriera per la punta del Siracusa, che però a fine partita ha parlato di gioia più per la squadra che per il prestigioso traguardo personale raggiunto. Per Sottil la soddisfazione di aver battuto tutte e tre le altre siciliane del girone e di navigare in classifica in posizione forse insperate ad inizio stagione. Male invece dunque il Messina, che non riesce a dare continuità al successo per 3-0, rimediato contro la Vibonese. La squadra di Lucarelli, che ha dovuto mettere in campo una formazione rimaneggiata, causa le squalifiche di Re e Foresta, aveva comunque iniziato bene il match, colpendo il palo con il solito Pozebon. Ma oltre questo, poco più pedipeloritani, che hanno perso dunque la loro decima partita stagionale e che adesso devono fare i conti con una classifica che attualmente li vede in piena zona play-out.